Allora ragazzi ci troviamo qui a Monteporzio Catone e il primo impatto diciamo che si ha dell'avvicinarsi del centro storico ragazzi è veramente veramente molto suggestivo e molto carino. Un paese che contiene poche anime ma abbiamo visto già abbiamo avuto modo di conoscere un paio di persone e sono persone veramente veramente molto squisite. Persone che ancora hanno il valore dell'educazione e della disponibilità. Continuiamo il nostro tour. Speriamo di mangiare bene ragazzi. Sempre più bastardo. Anche se abbiamo l'audio diverso la qualità diciamo è migliore. Perciò abbiamo preferito usare l'osma è meglio. Daglie! Daglie! Ragazzi è veramente qualcosa di spettacolare. Si respira veramente la tranquillità, la pace, la quiete. Ragazzi! 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 Grazie a tutti Ragazzi secondo me questa è una delle chiese più belle che io abbia mai visto Piena, ricchissima di affreschi e veramente un calore qualcosa di veramente impressionante Quindi continuiamo il nostro tour E dunque ragazzi a questo punto ci spostiamo destinazione Frascati L'avventura continua Ragazzi ma fame come stiamo messi? Ancora no? Allora caffettino? Caffettino c'è sta tutto Vero? E dai va Allora piccola breve tappa ad un bar per un caffettino e poi direzione Frascati Ad un bar per un caffettino e poi direzione Frascati Ok, la nostra idea era quella di fare visita anche all'osservatorio e abbiamo visto su internet che c'è la possibilità appunto di fare visite guidate però almeno apparentemente il primo cancello è chiuso quindi ce ne torniamo indietro e direzione confermata quella di Frascati Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Pagamento minimo 0,80 centesimi tutti i giorni festivi compresi dal 1 ottobre al 30 aprile o dal 1 maggio al 30 settembre e dopo aver inserito i dati della nostra auto siamo pronti a mettere le nostre 3 monetine da 50 centesimi in modo che il distributore ci possa erogare il biglietto che convalida la nostra sosta Ok, ha preso i soldi, stampa in corso, non so se con i riflessi si vede Perfetto, il nostro biglietto lo abbiamo pagato quindi fino alle 12 e 21 possiamo stare tranquilli e mi raccomando ragazzi il bigliettino sempre bene in vista Ok 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 E finalmente il caffè in arrivo 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 Ok ragazzi un bel caffè un buon caffè Una bella colazione l'abbiamo fatta Ci siamo fatti il giro panoramico di qualche chiesa della piazza E adesso ce ne andiamo a cercare Un pochino in periferia da quello che è il centro storico di Frascati Una bella trattoria, un ristorante per poter andare a rifucillarci Un pochino in arrivo Un pochino in arrivo Un pochino in arrivo Un pochino in arrivo Grazie a tutti.